Voglio ricordare che alcuni ragazzi mi hanno detto che alle 13.21 devono prendere un treno, quindi faccio da insegnante, siete giustificate un'uscita anticipata e colgo l'occasione per salutarvi e per dirvi da parte mia che è stata ovviamente preziosa la presenza di tutti, in particolare la vostra come anche gli studenti dell'Istituto Albert e del Berti che si sono avvicendati poco fa e da mamma vi rivolgo l'invito di avere cura di voi stessi perché iniziare ad avere cura di voi stessi insegna a relazionarsi con gli altri e col mondo esterno. Oggi tra l'altro il 20 aprile è anche la giornata della terra e credo che con questo abbia detto tutto. Grazie, prego. Grazie, buongiorno a tutti, sarò brevissimo. Io sono qua perché Cinzia Franza, alla quale mi lega un amicizia di 50 anni, mi ha chiesto di venire, faccio l'epidemiologo. Ma in coda a quello che ha detto Cinzia e a quello che hanno detto i ragazzi i complimenti per questo bellissimo documentario. Vorrei solo dire una cosa, la tragedia dell'IPCA è emersa, è venuta a conoscenza dell'opinione pubblica, ha portato al primo processo penale. Parentesi, l'Italia è uno dei pochi paesi dove le malattie professionali sono reato penale, perseguibile d'ufficio. Chiudo la parentesi. Dicevo che sia il caso dell'IPCA non sarebbe mai emerso senza la presenza di quelle due persone che sono state menzionate, Gino Franza e Arbino Stella. E' dall'interno, è stato dalle vittime, dagli operai che è venuto fuori questo. Così come il bando dell'amianto del 1992 che adesso sono menzionati i ragazzi, è stata una conseguenza di un'azione da parte dei lavoratori, da parte del sindacato. L'accademia alla quale io facevo parte ha avuto un ruolo veramente minimo in tutte queste cose. L'azione a Casale Monferrato di bonifica dell'Aeternite, consiglierei a chiunque di andare a dare un'occhiata, è stata un'azione che è partita dal basso, che è partita dalle vittime. E su questo credo che valga la pena di fare un attimo di riflessione, di capire che cosa è il distacco, cos'è stato e cos'è ancora adesso il distacco tra l'accademia alla quale io appartengo e il mondo reale, il mondo effettivo. Ancora una cosa su Casale, consiglierei a chiunque di andare a vedere non soltanto che cosa è stato fatto, ma anche il parco che è stato costruito dove c'era la Ether, dice una volta, parco che si chiama Ethernot. E con questo è abbastanza significativo questo cambiamento di nome. Grazie. Grazie, grazie mille.